ciao questo è un nuovo video visto che ho riuscito che avevo recuperato gli ultimi volumi da poco e sono anche riuscito anche a leggermela magari anche tutta gli volevo tipo dedicare un video visto che sono riuscito a finire di leggere un video magari dedicato a proprio a ai sei volumi dell'ultima serie di sanctuari che che avevano fatto questa serie di due volumi due volumi in uno che la vecchia che avevano fatto nel mi sembra che la loro tipo quella vecchia di dodici volumi l'avevano fatta nel l'avevano fatta tipo iniziare nel 90 che l'ho voluta tipo a parte che ero rimasto un attimino indietro con i volumi che avevo solamente i primi i primi all'inizio avevo solamente i primi due e dopo sono ho recuperato gli altri quattro che ho visto che leggendola che è una serie magari che alla fine come serie magari può anche meritare perché non è magari la solita magari lettura magari leggera o magari la solita lettura magari leggera che magari come trama ci poteva magari anche anche stare che parlava più che altro magari di una trama che parla più che altro magari di politica che è più che altro di questi due due questi due giorni asami e oggi che sono scappati dalla guerra civile in guerra civile in cambogia che vogliono hanno tipo lo vogliono tipo hanno preso la decisione che vogliono tipo cambiare cambiare magari il giappone che a parte che è oggi è tra far parte della della cosa e asami magari entra subito magari politica però più che altro magari la trama è più che altro magari è tutta la trama magari parla più che altro magari di questa politica di queste magari elezioni per riuscire magari ad avere loro due asami e oggi magari creare loro specie santuario e avere un giappone magari migliore per avere questo magari giappone migliore ho visto che anche magari nella parte di anche mare di disegno ho visto che che ho visto come si dice che meritava anche essendo magari anche una serie magari anche essendo malevano sia anche un po vecchia però anche la parte dei disegni ma lei ci poteva marea ho visto che ci poteva marea anche marei anche stare che questa serie qua sono sei volumi che costano 15 euro ma magari l'uno che della star comics però visto che ho visto che amore leggendo l'amore leggendo la tutta amore ho visto che amore ma che come entra ma ma lei deve un po piacere perché che parla che parla più che altro di queste parla di politica di queste elezioni con questo audio che fa parte e nello stesso momento c'è questo gioco che fa parte della della marei e accusa che ha sempre la mare sopra la sua sovracoperta che ho visto che al fine marei non è marei anche se non è marei il mio gene il mio gene proprio visto che come come marei come se ci può marei anche anche sa che adesso marei vi faccio vedere marei le sei copertine che la prima è questa seconda terza quarta quarta quinta e l'ultimo questo qua che il sesto che che la fine marei che il foto che sono questi due asami e oggi che come si dice che come stavo dicendo prima ma c'è anche male nella parte marei dei disegni essendo marei a parte che magari anche se un po che è un po vecchio tamore tipo non città niente ma è la parte di marei dei disegni proprio visto che non ne ha così marei così marei così neanche buttano anche nella parte marei dei dei disegni che anche suddivisa marei anche in una parte suddivisa anche marei nei suddivisa marei a capitoli che sento marei ci sono mai anche molte ci possono essere marei anche pistole così essendo marei parlare di politica così magari cercano marei di come si dice di i soliti ci possono essere marei i soliti metodi per avere magari qualche qualche vo come si dice qualche i soliti metodi per riuscire ad accapararsi magari qualche qualche voto alle elezioni qualche voto marei in più ho visto che come come serie ho visto che magari siccome che l'ho voluta al combattere perché ho visto perché ho visto perché che meri che meritava che magari su che alcuni si dice ha sempre se sempre la sua maresi per la sua sovracoperta che anche sotto a parte sotto dei volumi si prema reine ha proprio visto che maresa il santuario come come se magari ci poteva marei anche come si dice ci poteva marei anche anche stare santuari che l'ho voluta tipo completa completa e anche tutta che che prendendo prendendo la tuta tutti i sei volumi alla fine quindi c'era volume sono sono quella novantina d'euro che è una serie che ho visto che anche i morti l'avevano tipo anche recupera l'avevano anche recuperata che magari non è la solita marei come ho detto prima marea la solita marei serie marei con una trama un po un po un po un po sempliciato però ho visto che morai come trama ci poteva amare anche mi ci poterà anche stare e niente che quello che poteva amare anche di questa serie qua di santuario marei ho già detto che che come si dice che la storia è di questo show fumi fumi mura e i disegni di rio rio chi i che i che gami che della star comics come come serie che quella vecchia erano 12 volumi che adesso ne hanno fatto due in uno che due in uno è diventata da sei adesso però ho visto che magari a me anche se non è amare il mio anche se non è amare il mio genere ho visto che come se magari meritava che è più che altro è adatta marei per un pubblico morai adotto a posto di una marei per un magari ragazzo giovane che come anche come genere tocca un po anche essendo mai essendoci marea che la jakuza dentro ci può e tocca amare un po anche il crimine thriller oltre mare la solita politica tocca anche mare il crimine un po e anche un po thriller così e provare nel complesso marei ho visto che nel complesso marei mi è mi ha piaciuta come come sei resta qua di di santuari e niente marei quello che potevo mai dire marei di santuari marei lo già quello che potevo dire marei ho già detto e niente marei ci vediamo marei più avanti con i miei soliti video sui magra o sui frumenti quei soliti marei da edicola per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao ciao